Dobbiamo esportare la libertà nella galassia, fra poco ci mettiamo in chiamata, eccoci qualcuno risponde, qualcuno ha risposto alla chiamata, se sconnesso non c'è più nemmeno nella chiamata, proprio si è dissociato, allora io sto attendendo con spirito democratico, eccolo accetta, i miei compagni stanno sopravvivendo con qualche miracolo, già il primo passaggio è quello di non uccidersi a vicenda, già questa è una cosa comunque una roba lodevole, io ancora me la ricordo la torre Tesla di qualcuno, non faccio nomi, non faccio nomi, che se la sentiva no? Tipo il cazzo lunghismo a 3000, ho la torre Tesla, adesso vinciamo, la prende e siamo finiti obliterati, ho provato, sempre meglio che curo che mi ha trattato con un colpo in fronte e mi ha preso il fucine, oh yeah, ho la risposta, per unirti dovresti, ho mandato la richiesta d'amicizia, abbraccini, lo sento abbraccia tutti, madonna, sembri veramente uscito da Dread, la legge sono io, ma io sono la legge, io sono uscita da un vecchio episodio di Star Wars invece, Sì, ti sembri quando lei la va giù nel... Ti ho aggiunto, mi viene il dubbio se mi sentito, Sì, ti sentiamo, scusami, ti sentiamo, scusami, ho giù, ti ho aggiunto, perry. Ah sì? Sì? Ok, e se mi hai aggiunto allora puoi entrare nella partita? Two hours later. Ma qua che abbiamo? Ma che è abisso? Chi è? Ok, io ti vedo online ora, però ti posso invitare alla squadra, guarda, ti invito a me, la squadra, venghi, venghi. Eccoci qua. A posto. Allora, giochiamo a 5 perché è la 6 ancora non l'ho sbloccata, eventualmente. Ok, perfetto. Allora. Compliziamo l'operazione a 5, così i blocchi 6, poi possiamo l'operazione a 6 e... Perfetto. Cosa mettiamo? Mire, che dite? Portolemire? La Tesla. Sì, le mettiamo proprio di fronte all'uscita, così ogni volta che proviamo a scortarli muoiono. E... La serone. Ho messo qualche torrente. Comunque, Terenas sono di quelli che gioca a livello 7 perché in realtà quando va sui pianeti sono gli automaton che si difendono da Zergaga, sei da Zergaga da Terenas, giustamente. Andiamo a premere sti tasti? Dove sono i tasti? Eh, io sono proprio su uno dei due, quindi non muovo. Grazie per queste informazioni, Esmeralda. Cosa ti fai? Notizie fondamentali? Eh, mi ha detto, sono una youtuber di 143 iscritti circa, e mi fa piacere. Bene, auguri. Io sto spegnendo quelli grossi. Sì, la serone è la serone e funchia, dai, la serone fa... Ok. Vai via! Ah, vogliono il mio culo! Cacchio! Io non ne ho toccato uno. Non mi sento... Mi sento... Non mi sento tanto bene. Non ce lo so! Non mi sento rappresentata. Sì, esatto! C'è il trucco patriarcato in questa squadra, non capisco. No! Da quando questi stronzi hanno un lanciarazzo? Eh, sì, maledetti i bastardi. No, no, che succede, Rob? No, mi avessi tirato un mortaio addosso, tipo, una roba... Ho paura i civili, me li mi sono apparsi davanti, mi sono cacata sotto. Oh, ne mancano due, sono qua, ragazzi, eh! Ok, fatto! Mamma mia! Bravissimi! Godus! Troppo potenti! Vabbè, niente, userò la democrazia per salvarmi. Ah, ok, vuole fare così, va bene. Sì. Bella! C'è la Tesla! Eccolo! Non ce l'ho preso! No! Ma non ce l'ho di merda sulla super terra, scusami, eh! No, ma devi stare abbassato quando passi per di là, eh! Ma non ho dubbi, però, Dio Bono, scusi, eh! Ma scusa, se fai scelte di vita di merda, amiche, è colpa della super terra, brava tua! Vabbè, raga, ho capito, che mi ha fatto sopra sulla pietra cosa. Ma non lo so! Mi ha chiamato nessuno, mi ha chiamato nessuno, mi ha chiamato nessuno. Mi ha chiamato nessuno, mi ha chiamato... Oddio, che bello! Ma buono, ma è meglio mi faccio sponsorizzare da Steve Basalari, Dio Bono. Adesso... Ma sarebbe stato proprio un peccato se fossi caduto sulla testa di qualcuno, vero? Cioè, così... Vero? Eh! È fallito! Ma pigliata la comoda, Pelican! Sì, no, Pelican! Ma è sereno, eh! 39 secondi! Pelican sta aspettando... Sta cercando parcheggio! Ho capito, andate a fare in culo, robot di merda! Robot di merda! Hanno dei sentimenti comunque! No, non hanno dei sentimenti, hanno deciso di rinunciarci per avere del metallo! Ok, chi è stato a uccidere il cittadino? Beh, cioè, non mi accusate! Non fatelo! Sì, cos'è sto favoritismo? Non i confronti di roba! Che adesso arrivano anche gli illuminati, madonna che ansia! Ah, mettono gli illuminati ora? Sì, sì! E cosa sono loro? Scusate che non ho seguito! Praticamente sono alieni estremamente avanzati che hanno dato il 90% della tecnologia agli umani! Blu e anche stronzi, oserei dire! Vabbè, quello è da butti da budà! Quindi, come i navi, blu e stronzi, quindi, praticamente! Un altro difensivo, ok? Sì, sì! Possiamo provare a fare... Ah, però in questo momento, coi robot! No, aspettate! Aspetta! Cornuto! Maledetto! Bastardo! Comunista! Il mare dei cornuto a un robot è una cosa bellissima! Scusate, qua che io stavo sportando la democrazia! Con i lanciarazzi, andate a fare in culo, eh! Ah, e come si fa? Devo... Laserone! E devo disattivare la modalità, dite! Modalità streamer, tipo? Eh, devo disattivare la modalità streamer? Sì, 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 assolutamente sì! Ok, ok! Cosa sta succedendo? Fiamme su fiamme! Ma se va donna, mi dai! No, no, no! No! Che cacroia! È benissimo perché passiamo da un discorso serio, ma... C'è perché urla! Mi sono distratta! Posso guardare un secondo? Stavo guardando le granate! So di merda! Merda! Questo come cazzo è di andare... Da dietro, da dietro, da dietro questo! È morto! È morto! È morto! Pelican! Aspetta! Dov'è? È sceso, è sceso! Andiamo, andiamo! Mi sfracasso tutta! Vabbè, arriva, arriva! Aia, le rotule! Non importa, andiamo! Ma quindi adesso c'è livello 7! Volete veramente? Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Ah, no, è prima livello 6! Ok, poi c'è... Eh, sì, sì, perché su questo account devi sbloccare livello 6 e poi... Mamma mia! Gran periodo di bei giochi, ragazzi! Tra la steppo che poi adesso che mi arriva pure Dragon Stockman 2, tra un po' io mi chiudo, eh! Mamma mia, Dragon Stockman 2! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia! No, è il personale, è il personale questo! Va bene così! Beh, lui, non si vede niente, che cazzo! No, 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 no! Sembra di stare in Africa! Siamo in pieno una padana! No, ma infatti, no, ma a me sembra più, ma a me sembra più appunto Monza la mattina! No, non è Milano, non è Milano perché comunque al minimo si respira! Non posso scavalcare qua, devo fare il giro! È tipo la bassa questa, è tipo quando sei in zona... Sì, sì, è la bassa questa! Ma sta nave? Sì, è baggata! È in mezzo, io non posso sblocarmi! Ah, questa! È proprio in mezzo! Ma chi l'ha parcheggiata? Cafoni! È rimasta incastrata? È rimasta incastrata? Che, non ne arrivano più perché è incastrata la nave, non mi dire, ti prego! Sì, sì, sì! Sarebbe bellissimo! Quella è arrivata! No, stanno arrivando, stanno arrivando! Ahia! Ahiaiaia! Ma fa un culo, lo vuoi di merda! Eh, non ho niente! Ah, questo è cattivo, cazzo! In attesa di stratagemme! Questo è cattivo! Sto tirando ogni cosa, io! No! Ahia, chi è morto? Io? Ma mi sono suicidata, non so come! Ok, metto... No, dimmi che non l'ho messa davanti a... Ma no, ma non ci credo! Ma non ci posso credere! Mi ha schiacciato, Lara! No! Oh, cazzo! Il mio corpo è qui! Vabbè! Ci stanno distruggendo ogni difesa, cazzo! Oh, io! Ok, arrivo, arrivo, arrivo! Ahia, sono caduta! Io sono inciampato su di te, Lara! Sì, continui a inciampare! Siamo ubriachi! Eh, sono due carri armati laggiù, che quindi è un po'... Perché ne taglia le spalle! No, scherzo, scherzo! Io sto scherzando, aspetta! Datemi il carro! No, cazzo, sì! Dov'è il carro, regà? Figatelo! No, non mi devi secare! Tu ho presente! Niente! Vabbè, eh... Ti lo dirò! Eh, sia stata... Avete presente quella scena col divano bianco? È più o meno... È successo una cosa simile con i robot! Molto specifica come scena! Era nero il divano! E vabbè... No, quello è il classico, il divano! Ah, scusa! Ne ho visto un altro! C'è un buco? Così? No, perché? Sì, io c'è un buco! No, sono caduta in un buco! Sono caduta in un buco! Eh, non così, però! Cosa sta succedendo? Mi fai... Ordine 66, Tito, per favore! Sono quattro cararmati, regà! In che strada! Eh, sì! Eh, il problema di queste missioni è sempre questo! M***a, un missile nel culo mi è arrivato! No, vabbè, dai! Mi sono suonato tutti di progetto! Ma quello? Ma stanno male! Ma che troppo è? Ah, eh! Ma non è umano quel drop lì! Allora, ho un'idea! Ho un'idea perché ci mancano sei minuti! Due persone devono fare da bait viventi! Eh... Devono! Devono farsi rincorrere! È l'unica! Vado io! Vado io! Ok, dobbiamo... Ok, dobbiamo... Spona fuori e letteralmente spargli un paio di colpi, prendi l'agro e poi fatti inseguire! L'eronimo anch'io! I terrorist impact la mia... Senti, per la libertà, tutte le granate sopra di lui! E' sprosso! Dovete sprodere! Grande, 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 grande! L'ho ucciso! L'ho ucciso! Piccati! L'ho ucciso! Sucate! Il problema adesso è portare i civili! Quali civili? No, i civili! Di cosa stai parlando? Non erano questi gli accordi! No! Mamma mia! Ce l'ho fatta! E vabbè, il mio giro! Quanti cazzo di carri ci sono! E vabbè, ho capito! Eh, niente! Eh, sono morto! Perché mi dice che... E niente! Rob, buona fortuna! Trovare i civili e tutto! Quale migliore finale del bombardamento orbitale per tradimento? Sì, riuscire a... Ah, vabbè! Eh, niente! Morirò, ragazzi! Che vi devo dire? Vabbè, vabbè! Però... Però sì! In chat da me si chiedono che cosa sono i civili e la risposta è codardi che non si sono arruolati! Brava! Brava! Che facciamo qua? Eh, dobbiamo... Ma è tutto occupato! Beh, cazzo a terra! Eh sì, tipo Normandia style, capito? Ma non è finita, cioè proprio bene... Lo sbarco in Normandia non me lo ricordo come è un... Un grasso in generale? Eh, ma dai! No, dai! Non potrebbe andare molto peggio! Ah, beh sì! È per questo che oggi abbiamo Google Gemini, ragazzi! Sai che l'hanno annullato, è vero? Sì, lo so! Ok! Non so, lo so! Troppi errori, l'hanno tolto! Allora prendo io la serone che tu hai già all'orbitale, prendo anche la 500 kg, Io ho preso il jetpack perché è fico! Brava, brava! Mi piace! Non si vede un cazzo, ragazzi! No! Eh, vabbè, vaffanculo! Siamo spawnati letteralmente di fronte! Eh, ma ovunque! Laserone! Ok, lei, lei, lei! Eh, eh, eh! Mi sembra un po' eccessivo usare il laserone per questi! Eh, no, 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 no! Mi sono cagata addosso! Sì, sto premendo tasti, ragazzi! Sì, sì, eh, vanno premuti tasti! Eh, esattamente come funziona, diciamo, in forma di assolio! Nella realtà! Sì, sì, sì! Sono lasciamissimi davanti a noi, occhio! Nei film, nei film, nei film, premendo un a caso, premono un a caso, cioè alla fine! Ma infatti è palesemente Linux questa cosa, guarda! Vieni! Ma la bomba da 500 kg! La bomba! La bomba da 500 kg! 2, 1, abbracciami! Verga, lei è un po' stronzo, eh! È un po' stronzo! Ma dove si è? Sono sotto! Sono un coglione, ho sbagliato, pensavo di avere l'altra arma! Chi è che ha preso il mortaio qua? Io! Sei un mazzo! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ragazzi! Ma comunque è veramente epica questa situazione con la nebbia, le esplosioni, il fumo, i laseroni, questi proiettili cattivi, bellissimo! L'occhio di Sauron! L'occhio di Sauron va disattivato perché continuerà a chiamare navi a nastro! E il fatto che io li stiesi sparando non ha servito a niente! No, devi andare a chiusarlo da lì! Ah va bene, ok! No, poi l'unico modo che hai per distruggerlo è andarci! Ok! Andiamo, andiamo! Esatto, appunto, navi cargo! Quindi l'ho fatto incazzare, sorry! Mi chiami si abbatte! Ok, la roba di Sauron! Ragazzi, dovete chiamare la Hellbomb, la Hellbomb dovete chiamare! Ah, la Hellbomb! Eccola! L'ho chiamata! Dovete attivare! Adesso ce lo dobbiamo andare, però! La devo ancora attivare easy! Ok, ok, ok! Dai, fammela venire sta! Forse ci sono, forse ci sono, dai! È impossibile! Ormai la missione è diventata, distruggere l'occhio di Sauron! Devo tirare sta cazzo di Albom! Ora ci sono, la posso fare, la posso fare! Non abbiamo più rinforzi, praticamente! La posso fare, la possiamo fare! Io e Lapo ci siamo! Ok, ok! Ci siamo attivata! Vaffanculo! Non me ne importa un cazzo se voglio questa bomba! No ma cazzo, abbiamo solo un riporto! Che tu dici? No, no! Via, 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 via! Eh, implodo, raga! Anch'io! Eh, ci provo, ma... Anch'io! Prego, esplodi, bomba! Meggi dalla collinetta! Meggi dalla collinetta! Ti prego! Sì! Sì, 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 sì! Sono morto io! Io sono vivo! Nucleare, nucleare! Ok! Nucleare, nucleare! Ah! Madonna, mi ci son messo sopra, manco possibile! è stato nucleare bellissimo proprio vabbè a posto se qualcuno mi scorta vediamo di mettere ok buona vada vada la seguo consegna un minuto un minuto la faccia di attivare però dice che c'è un errore alimentazione mancante dobbiamo andare dall'altro lato è vero questa non la facciamo quindi oggi su cristo ma veramente l'orbitare in precisione esplodi bastardo non può essere sopravvissuto quel cane è possibile se c'è da quello esploso se c'è dal fumo e tipo dragon ball ragano le cose lui sta voglio manco non voglio manco che si scherzi su ste cose no è morto è morto ma parte che era armato usciva dalla dall'ombra di un gioco installato richiediamo il rimborso il rimborso dopo 40 ore con la giustificazione era troppo grosso il canna armato mi ha parlato ho avuto paura di anche anche io ho un commentario bellissimo in chat comunque raggiungere dalla post e meno rispondi meno perché non sono spaisati a questo non sono abituale no io ho delle brutte persone in chat quindi sono tutti tranquilli ma fa fa culo questo con i coltelli in mano che mi vuole sguzzare con i coltelli ma che il gioco è su questo c'è la due sfade libertà per sempre per sempre per sempre tira la leva abbiamo gli amici andiamo a fare la missione si vediamoci dal cazzo un cheat come 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 il mio c'è fa che intendete se gli oggetto dove si attraversa secondo voi stai a vedere è totalmente un mandaloriano lei guarda che ha fatto l'erasmus quello lì è di vero a ballinia dalla torre un altro vado a posto e ma arrivano dalla arrivano da est arrivano da est a nord ho sento qualche rumore ma non li vedo anzi non è possibile normale yes extraction bene è il momento di andare all'estrazione che ovviamente appare in culo da guante chiaramente ecco io già sono inciampata yes a dispetto di qualunque pianificazione ce l'abbiamo fatta hai visto? bravi bravi mi piace siamo stati bravissimi sono queste le missioni belle mamma mia che bello una delle cose che più mi piace era un'altra vittoria per la parte giusta della storia sì sì quella è la più bella di tutte quella è la più bella in assoluto allora missione completata esporta la democrazia controllata in che senso bellissimo dai Lara facciamo gli insettini vai facciamo la disinfestazione 15 minuti 15 minuti ok vabbè nessuno poti fare per i termini di dai ci piace gli automaton possono esserci anche un minimo di apprezzamento dici vabbè mi piacciono gli automaton ma che cazzo è? ma questa è la difesa? ma cos'è difesa? sì sì è difesa sì dobbiamo sterminare ecco là sono già morto oh minchiazze brutto signore della bile eh sì non so come mai sono morto chiamatemi sul coso della bile che lo uccido provo eh sono trano no sono trano provo ah no ok pensa positivo gli puoi fare gli puoi fare ponte sotto occhio M1 occhio ok no a posto dai pelicanone arrivo 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 semifero di te vai Zerga ok grazie ti ho dato una copertura perché stai morendo mezzo a tre ti sa che i vegano con le care ti ho detto di completare l'operazione brava 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 madonna il volo il volo della fede la libertà vi osserva tutti e non è una minaccia assolutamente è un'avventura che non finisce mai sapete cos'è il diver si merita è uno psiopo per prepararci a un super fascismo che sta arrivando sì sì comincio veramente a pensarlo cioè possiamo magari facciamo l'ultimo facciamo ne facciamo una e poi si si cazzi cioè ne facciamo se vuoi facciamo le uova dai facciamo le covate si sfoghiamoci sulle covate dai se c'è una di difensiva quella la possiamo fare allora vediamo 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 ok dai difensiva sì questa qua dai è una difensiva così diamo di mortai e laser abbiamo iniziato con la tesla finiamo con la tesla ecco voi speravate che la missione finisse non ho detto se è bene o male no Corbis terrificate madame web non mi dirai mai il contrario è il miglior film di sempre no te no Lapo non coltivare questa idea comunque un film che riesce a fare peggio di Morbius diciamo che è dura è dura devo dire che secondo me è un risultato cioè è roba da mettere a curriculum però c'è da dire una cosa Morbius si è fatto veicare da internet è tornato in sala e ha fatto ancora peggio quello è stato bellissimo bello no perché ho tenuto questa arma sono un coglione e vabbè e non sapevo che lì ci fosse che fosse così ah c'è un titano davanti a me c'è un titano davanti a me c'è un titano davanti a me oh bobre curva oh bobre ahia c'è un titano c'è un titano cazzo eh sì c'è la rieta chi è che ha droppato ok io sono rialzato tra una te troppatemi troppatemi che il casco ha tosto la tesla allora ti lancio la genone ok da vedere assolutamente forse su una rieta qualcuno mi ha boccato eh vabbè ho capito c'è un altro gigantesco ho capito un secondo mi stanno eh vabbè però quale scopate incredibili subito subito sono tutti infoiatissimi si insetti eh sarà la stagione degli accoppiamenti mentre cadete per favore si facciamo ce lo facciamo lui voleva fare noi ma noi faremo lui no no io stavo schiazzato era una simpaticissima gag cazzo vaffanculo i settini di merda la regata no aio che cazzo non cazzo la rag cadendo e facciato cadere la granata non vedo nulla non vedo non vedo dai vacciniamo sì sì adesso mancano 25 li stiamo uccidenti a un suon di di il dive comunque per la libertà e la tesla rincili tutti eh merda oh è vivile guardali la democrazia controllata sucate no no era uno scherzo ma se tipo ma se penguin uccide il titano perché letteralmente sopra il titano non ce la fa ad atterrare non può atterrare dio 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 pelican era nero era tutto nero io c'è dicevo vabbè atterri sul titano ma a vederlo è titano chi è penguin è il sostituto di pelican ragazzi mica pelican il penguin è quello è quello che sta facendo tirocinio un aereo grassissimo che arriva quando ho detto il penguin ho detto boh che cazzo è un penguin va bene anche penguin basta che ci porti arriva scivolando penguin è stato un incubo sta missione e questa era una missione ma ma ragazzi ci ho disperato momento di grado dai vediamo no 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 ho fatto ebam la volta ebam lo schiaffo al culo è passato va bene va bene comunque alla fine ce l'abbiamo fatta siamo morti giusto un paio di volte ci vuole un animale qua nella nave abbracciamci addio che bello abbracciamci tutti ma se se lo facciamo contemporaneamente dai facciamo tipo tutti insieme non lo so che si glizza tutti credo no no allora ci dobbiamo mettere a croce allora dai metteteci davanti allora esatto 3 2 1 vai ha funzionato un momento bellissimo fantastico perfetto bello che io ho speso le mie medaglie per comprare le moto dell'abbraccio giusto giusto così tra schiaffio al culo abbracci cambio di sesso immediato è perfetto vabbè comunque diciamo se ci si rifà allo stile americano è molto accurata questa cosa del camion di sesso al volo comunque 5 minuti e torni a casa con la punturina quindi a posto va bene va bene va bene allora io vi ringrazio ringrazio anche la chat grazie ragazzi l'abbraccio l'abbraccio omosessuale l'abbiamo fatto quindi possiamo salutarci dai è stato divertentissimo buonanotte ragazzi ci vediamo domani ciao ciao ciao